Parlare di crisi e quindi io ho iniziato proprio progettando in questo momento storico anche se ovviamente in questi ultimi due o tre anni si è molto accentuata la situazione però devo dire che forse ho avuto la fortuna sfortuna di prendere le misure di questo modo diverso di ripensare il design già da molto tempo e quindi non dico che questa cosa mi aiuti però comunque sicuramente mi ha fatto cadere in piedi, questo sicuramente. Grazie